ragazze venite a vedere tutto va bene? si c'è qualcosa che non va? no si spuno? si si ok ci vediamo in pratica c'è qualcosa che non va? prendila c'è qualcosa che non va? c'è qualcosa che non va? c'è qualcosa che non va? ehi tu! dove hai bisogno andare? ma forza ti racciti quanto sei cretina e sbrigata come hai detto? non voglio farlo ho detto di farlo non prega tu ciao a tutti sono sbrigata ehi tu! ma che cosa stai facendo? chi pensi di essere? io ecco grazie 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 grazie